Vali Cipriani, sindaco di Montefiore Conca, una rocca splendida, uno dei borghi più belli d'Italia che quest'anno ospita la ventiquattresima edizione del presepe vivente di Montefiore Conca. Esatto, eccoci qua, quest'anno si può dire baciati dalla fortuna, dalla fortuna perché abbiamo avuto delle serate meravigliose come questa sera dove sulla costa c'è una nebbia fittissima mentre qua il cielo è sereno e quindi il presepe può essere gustato veramente in tutti i suoi particolari. Abbiamo deciso di trasformare completamente il percorso abituale spostando l'ingresso alla fine di via Riva, quindi l'accesso è attraverso una gradinata e quindi ovviamente il quadro dei pescatori, falegnami e tutto quanto ha un percorso completamente diverso dagli altri anni e i quadri hanno pur rimanendo con i medesimi mestieri un effetto completamente diverso. Un bellissimo coinvolgimento di tutta la sua comunità perché ho contato ben otto frazioni arrivando a Montefiore Conca che fanno parte di una comunità che è di 2200-2400 abitanti. 2272 abitanti per l'esattezza, molte frazioni sì e qui il borgo con ovviamente la sua caratteristica che presta in questa veste di Betlemme. Comporta ben due mesi di lavoro questo presepe, quindi diciamo che è un impegno totale perché chi lavora sono tutte persone che durante la giornata svolgono altre attività e quindi la sera dopo una giornata faticosa hanno ancora voglia di lavorare gratuitamente per offrire questo spettacolo quasi direi unico in tutta Italia. Quindi tantissime le novità che andremo a vedere però una rimane costante quella della natività. Noi abbiamo due personaggi, due famiglie sì diverse nelle due giornate in quanto proprio per dare la possibilità a più di una famiglia di avere questo bellissimo ricordo oltretutto per non mettere troppo a rischio un neonato per due giorni consecutivi abbiamo sempre pensato di avere un'alternativa e di dare questa possibilità a due famiglie di Montefiore. Ecco sindaco, il quadro dei pescatori quest'anno veramente meraviglioso ma altrettanto tanti quadri che avete ricreato dal nulla qui in Rocca ma anche difficile portare tanta ambientazione e scenografia in una Rocca così storica quindi con grande attenzione e grande perizia come sempre. Certo, abbiamo anche aumentato il numero dei quadri, quest'anno abbiamo un quadro dedicato allo scultore, abbiamo un quadro dedicato a chi fa dei gioielli e quindi sono figure nuove che negli altri anni, nelle precedenti edizioni non c'erano. Il quadro dei pescatori quest'anno ha diciamo un'ampia visibilità, abbiamo riservato un posto molto importante e con grande fantasia è stato costruito anche questo lago artificiale e quindi diciamo che l'immagine è ancora più evidente, è ancora più reale. La Natività è proprio accanto alla chiesa rimasta in quella postazione? Sì, la Natività è lì perché credo che sia il posto migliore anche come accesso da proprio l'immagine della grotta come la grotta di Betlemme. Quest'anno vicino alla Natività è stato allestito anche il campo dei pastori con le pecorelle. Quest'anno anche il quadro di Erode è stato completamente rivisitato e all'interno della sua sala c'è anche accompagnato, i cortigiani sono accompagnati nel loro diciamo sfarzoso intrattenersi anche dal suono di un'arpa, un'arpa celtica. Quest'anno, il 6 gennaio, avremo una favola, una favola particolare in quanto qualcuno dice che i Remagi non erano tre ma erano quattro. E quindi insomma invitiamo a venire in Rocca chi è curioso e ha sentito questa particolare notizia. Certo, soprattutto questa storia è dedicata ai bambini che saranno alla ricerca del quarto Remagio che avrà il nome di Ugo. Alle 15.30 in teatro io aspetterò tutti i bimbi per regalare a loro una calza dove oltre a un regalo particolare troveranno tanti dolci. Tutti i bimbi dai 3-10 anni residenti nel comune di Montefiore Conca avranno questa calza, sono circa 200 i bambini, anzi 205 per l'esattezza e dopo il regalo della Befana tutti in Rocca alla ricerca del quarto Remagio. Ecco sindaco a me piace che lei sottolinei il numero dei suoi abitanti perché è un piccolo comune ma lei mi sembra che li prenda cura ad uno ad uno, sa il numero esatto dei bimbi, il numero esatto degli abitanti, grande cura nei confronti delle persone ma soprattutto dei suoi concittadini. Certo, certo non abbiamo detto il numero esatto degli ultra 75 anni che sono 187. So che lei ogni anno porta loro dei panettoni. Sì 187 panettoni, abbiamo suonato, io devo ringraziare mio marito a questo punto che mi ha dato un grande aiuto, abbiamo suonato 187 campanelli per augurare a queste persone un buon Natale. Personalmente? Personalmente sì, personalmente, è una cosa che facciamo proprio personalmente e alla quale teniamo molto. E quando la vedono arrivare? E beh, molti si commuovono come me. Come il sindaco di Vionte, Fiore e Conca non ce ne sono. Valici Briani, complimenti per quello che lei regala ogni anno a tutti noi, a tutti coloro che ci stanno guardando e a tutti i suoi anziani perché l'anziano va rispettato e questo veramente è molto bello da parte sua come i bambini ma l'anziano è qualche cosa, è il nostro patrimonio storico, la nostra mente storica. Certo, le nostre origini rappresentano un po' quello che i nostri genitori ci hanno lasciato. Io, come dico, li visito molto volentieri, ecco, sono qualcosa di gratificante che aiuta tanto ad andare avanti anche in momenti molto difficili. Ben ritrovato Assessore, è un presepe meraviglioso quest'anno addirittura. Siete riusciti a modificarlo nuovamente? Sì, quest'anno abbiamo deciso di modificare l'entrata, abbiamo dato un vero e proprio vernissaggio a tutto ed è stato deciso questa modifica dell'entrata attraverso una vera e propria votazione. Chi ha deciso di non modificarla e chi invece ha deciso di modificare l'entrata e la maggioranza, come al solito, ha vinto e ha deciso di entrare dall'entrata appunto che ha detto prima il sindaco, dalla parte opposta del paese e dalla via riva. Ecco, un presepe che prende forma per due giorni in un anno, ma tantissimo il lavoro che sta dietro a tutti i volontari che, come giustamente anche Valli Cipriani sottolineava, operano volontariamente e gratuitamente dopo il loro orario di lavoro e non è poco oggigiorno. No, non è veramente poco, anzi molte persone lavorano, anzi voglio ringraziare, vorrei ringraziarle personalmente, però evito di dire i nomi perché poi mi dimenticherei sicuramente qualcuno. Quindi ringrazio soprattutto le persone che lasciano la propria famiglia anche nei giorni di festa per svolgere ed aiutare ad allestire il presepe vivente. Una bellissima novità che vorrei sottolineare è che proprio sotto la porta, nella porta del muro grosso o delle due saracinesche, adesso c'è proprio una saracinesca in legno creata con tutte le norme che devono essere create apposta per essere così vista da visitatori, da proprio l'idea di una rocca che veniva chiusa anche la notte fortificata. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo ideato questa struttura e messi in sicurezza attraverso degli esperti che appunto hanno allestito al meglio questa saracinesca e abbiamo appunto cercato di far ricreare, rivedere l'ambiente dell'epoca. E questo insomma per due giorni, quindi i fortunati che verranno qui in questi due giorni, che sono venuti ieri, che saranno qui oggi, potranno vederla, poi verrà tolta e poi chissà ai prossimi anni quale altre novità ci regalerete, oltre dei meravigliosi bracieri che probabilmente una volta c'erano qui con quelle fiaccole, con luce naturale che danno questa suggestione del Natale e del presepe vivente ancora più sentita. Sì, certo. I bracieri e anche le stesse luci che si vedono e non si vedono tendono a ricreare appunto le fiaccole e la luce stessa che vi era all'epoca. Chi entra in queste due giornate, in queste due serate, si trova veramente in un altro mondo. Sì, diciamo che lo scopo nostro è quello di far entrare il visitatore nella Bethlehem dell'epoca. Una volta oltrepassata l'entrata appunto si trova bimbi che giocano per strada, delle vere e proprie scuole, gli scultori, i pescatori per poi arrivare fino alla Natività. Non è un presepe vivente dove i figuranti sono fatti in cartone o sono delle pecore finte, cioè noi vogliamo proprio fare rivivere quella sensazione che viveva probabilmente il visitatore o il pastore che andava a vegliare e a trovare Gesù nel momento della propria nascita. Aiuto, liberateci! Per favore, dateci qualcosa da mangiare! Siamo innocenti! Non abbiamo fatto niente! Fateci tornare a casa, per favore! Abbiamo rubato soltanto un agnello! Siamo poveri! I nostri genitori sono poveri! Fateci tornare a casa, per favore! Veramente grazie, un'altra bella suggestione del Natale, soprattutto della Natività che ci regala Montefiore Conca. In questo momento lei è Assessore, non è Vice Sindaco, so che c'è anche questa usanza dell'alternanza nei Vice Sindaci, nella massima democraticità della mia amica Sindaco Valli Cipriani. Sì, così è stato deciso e molto probabilmente, se non succede nulla in questo anno, perché nella vita non si sa mai, diverrò il prossimo anno Vice Sindaco del Paese. Anzi, vi do appuntamento il prossimo anno, di modo che potrete vedere le nostre novità, perché ogni anno noi riserviamo delle novità ai nostri visitatori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!